Oggi noi diamo al Paese quello che il Paese merita, perché questo è un territorio dove purtroppo per tanti anni è stato un pochettino distrattato e quindi partiamo con un progetto natalizio. Il tema è rivolto verso i bambini, perché riteniamo che se vogliamo una società civile basata su democrazia e rispetto è proprio dalla culla che bisogna andare. Il programma prevede l'illuminazione dell'intero Paese, 9-10 manifestazioni tutte dedicate ai bambini, un presepe a mare illuminato, un albero di Natale abbastanza visibile e poi ci sono delle iniziative per i bambini che partono dai Babbo Natale in bicicletta che percorrerà le strade del Paese per delle serate che saranno una decina, le zampogne, delle manifestazioni con dei giocolieri e quant'altro. Io non mi dilungo perché il programma è molto vasto, vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale che ha dato un contributo di 2.000 euro, ma i commercianti, quelli che hanno creduto e sposato questo progetto, purtroppo la lacuna c'è sempre, in qualsiasi cosa uno vale a fare, alcuni commercianti non hanno creduto, però ringraziamo comunque lo stesso anche loro. Ma se tutti quanti sposavano un progetto del genere, sicuramente l'Ibomena quest'anno sarebbe stata una piccola Salerno. Il programma di Natale sostanzialmente andiamo a occupare tutti i fine settimana, compreso anche l'8 dicembre e il 22 e il 23, che sono nelle diverse anni. La data principale sarà il 2 dicembre quando faremo l'accensione delle luci. Quest'anno la novità sarà che per coinvolgere tutto il paese abbiamo noleggiato una bicicletta elettrica, dove Pappo Natale potrà facilmente girare in tutte le vie e rendere partecipi di tutti i colleghi che hanno venuto l'inizio di via. Il 2 dicembre faremo anche una Sagra del Dolce, in collaborazione con un nuovo comitato che è nato a Pico Marina, che ci ha aiutato nella raccolta fondi per questo programma. Infatti questo programma è stato realizzato con una parte da un contributo dei commercianti e una parte dai fondi raccolti dalla cittadinanza di Pico Marina. La chicca del 2 dicembre sarà uno spettacolo che si chiama Circus, dove verranno degli artisti di Reggio che faranno diversi mini spettacoli di clown, giocolieri, uomopala, trampoliere, mangiafuoco e quant'altro. Ci saranno sempre le mascotte della Walt Disney quasi tutti i giorni con animazione e bevidenza.